Le elezioni americane sono per noi decisive per tanti motivi. Innanzitutto sono un grande test sullo stato di salute della democrazia. Pensiamoci, sono oltre 200 anni che gli Stati Uniti eleggono i loro presidenti più o meno con le stesse modalità. E ogni volta è un po' un test su quanto la democrazia è oggi importante non solo negli Stati Uniti ma nel resto del mondo. Se la democrazia ha delle sfide e trova delle difficoltà negli Stati Uniti sicuramente questo si ripercuote anche sul resto del mondo. Pensiamo a, non diamo per scontato, non dobbiamo mai dare per scontato il fatto che visto che si è raggiunto un certo punto di sviluppo nelle democrazie questo valga per sempre. Ogni volta è un test proprio perché la democrazia viene rimessa in discussione. Pensiamo come esempio più vicino a noi, all'Europa, al caso della Germania. Proprio nei giorni in cui, nel settimana in cui l'America conclude la campagna elettorale per la Casa Bianca, cade il trentesimo anniversario della riunificazione delle due Germanie. E nel secolo scorso, mentre gli Stati Uniti continuavano a esercitare la loro democrazia più o meno sempre nelle stesse forme, la Germania si è trovata prima sotto una dittatura nazista, poi divisa in due con metà del paese sotto una dittatura comunista. Sono stati necessari 40 anni per riunire il paese, ne sono stati necessari altri 30 per arrivare dove siamo oggi con una Germania che sicuramente è una forte democrazia e uno dei motori dell'Europa. Ma niente è scontato perché solo il secolo scorso in Germania le cose erano ben diverse. Quindi è un grande test di democrazia e poi però è anche un grande test per esempio sulla tenuta di tutte quelle che sono le istituzioni internazionali che ci siamo dati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per poter preservare la pace e creare sviluppo per tutti i paesi del mondo. Pensiamo alle Nazioni Unite, pensiamo al Fondo Monetario, pensiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, discussa e criticata in questi mesi di lotta contro il coronavirus. Pensiamo al WTO, l'Organizzazione Mondiale che si occupa dei commerci o a tutte le organizzazioni e le realtà che devono fare i conti con le decisioni sul cambiamento climatico. Pensiamo alla Nato, pensiamo al G20, ecco tutto questo è un po' alla prova anche nelle elezioni americane perché negli ultimi anni c'è stata da parte dell'America una tendenza a chiudersi e a privilegiare quello che viene chiamato l'America First, a privilegiare quindi l'interesse interno del paese rispetto alla partecipazione alle organizzazioni internazionali. Quindi in ballo nel voto c'è anche questo, c'è in ballo l'agenda del 2030, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile che ci siamo dati per tutti gli anni 20 in cui siamo appena entrati. Riusciremo o no a raggiungerli, molti di questi obiettivi hanno a che fare con le decisioni sul clima e sull'ambiente e i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti hanno idee molto diverse su questo. Ci sono gli svolti economici immediati anche per noi in Europa, l'Europa ha sempre guardato all'America più che per esempio alla Cina o alla Russia per quello che sono poi le proprie interazioni e i propri commerci, ma in questi ultimi anni molto è cambiato da questo punto di vista e chi guiderà il paese, chi guiderà gli Stati Uniti nei prossimi anni deciderà che tipo di rapporto avere anche commerciale con l'Europa, se sfidarla con dei dazzi o incoraggiare l'interscambio tra le due parti dell'Atlantico. Ci sono ovviamente le conseguenze legate semplicemente anche alla vostra vita, andare semplicemente a studiare o a lavorare in America. Sarà più difficile o più facile? Dipende da chi c'è alla Casa Bianca, dipende da che tipo di approccio avrà sui temi per esempio dell'immigrazione. E poi ci sono per concludere tanti tanti temi di geopolitica internazionale su cui l'America ha come sempre una gran voce in capitolo. Pensiamo al Medio Oriente, veniamo da un accordo in Israele molto importante tra Israele e i paesi del Golfo, criticato però da alcune parti del mondo arabo. Pensiamo alle tensioni che ci sono state tra gli Stati Uniti e l'Iran in questi anni, pensiamo a ciò che è stato il dibattito tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord in questi anni. Quindi il futuro dell'Africa, del Medio Oriente, del Pacifico e ovviamente della nostra Europa, tutto questo è sempre legato un po' a quelle che sono gli orientamenti e le dottrine delle amministrazioni americane. E quindi le elezioni ci riguardano sicuramente anche per questo.